Ciao a tutti, sono Pamela Barone e vi voglio invitare questa sera a Mondello per la nuova rassegna di musica Mondello al tramonto e all'alba. Io sarò alle 19.30 nella bellissima borgata marinara con il progetto Brasil Fala Italiano. Insieme a me Antonio Zercone, Gianni La Rosa, Sebastiana Lioto e Riccardo Lobue. E poi alle 21.00 vi ricordo che verranno proiettati dei cortometraggi che ruotano attorno al tema del Golfo di Mondello. Il nostro bellissimo golfo, un progetto veramente molto bello, voluto dalla società Italo-Belga con l'organizzazione di Vincenzo Montanelli e con la direzione artistica di Angelo Butera. Che dirvi, vi aspetto in tanti alle 19.30 a Mondello con il progetto Brasil Fala Italiano. Ciao! Ciao!